che da qualche anno in più di noi qualche anno in più di noi che ha fatto dei pezzi esagerati si è beccato un Oscar da poco si chiama Ennio c'è una band che usa sempre un suo pezzo per introdurre dei propri concerti mai sentiti signori in cui si chiama Ennio Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.